Ciao a tutti amici di Vanilla, oggi parliamo del tesoro di Sutton Hoo che costituisce la scoperta archeologica più importante dell'alto medioevo inglese. Prima di parlare di Ridwald, della sua nave e dei tesori nascosti per secoli sottoterra, vorrei chiedere a quanti stanno guardando questo video e non sono iscritti, di iscriversi al canale di Vanilla Magazine, eviterete di lasciarci sepolti in una necropoli di oblio mediatico. Beh, questa era fantasiosa, ma l'allegoria è efficace. Sutton Hoo è un sito archeologico risalente all'alto medioevo che si trova in Inghilterra, nella zona anticamente chiamata Anglia Orientale. Il sito nascondeva una nave sepolcrale con i resti di Ridwald, un soprano britannico del quale si sarebbero quasi perse le tracce se non fosse, appunto, per la sua tomba. Il re inglese regnò nel VII secolo e fu figlio di Taitila, nipote di Waffa e membro della dinastia dei Waffinga. L'Anglia era, in quel particolare periodo storico, un centro assai importante per la nascente identità britannica, seguente al dominio romano di pochissimi secoli prima e base per la nuova cultura anglosassone. Circa dieci anni prima della sua morte, avvenuta nel 624, Ridwald era il sovrano più potente a sud del fiume Humber e venne chiamato addirittura Brett Walda, righello della Bretagna, a simboleggiare l'importanza e la forza del suo dominio. Sutton Hoo fu il sito scelto per la sua tomba di altissimo pregio, un monumento funerario giunto sino ai giorni nostri e che rappresenta una delle scoperte di archeologia medievale più importante per la Gran Bretagna. Il sepolcro del sovrano è costituito da una nave lunga circa 27 metri che fu ricoperta di terra sino al XX secolo, quando venne scoperta in modo decisamente rocambolesco e poco scientifico. Nel 1926 la signora Edith Pritti divenne la proprietaria dell'appezzamento di terra che si rivelerà essere ospite inatteso del cimitero di Sutton Hoo. Il terreno, ancora lontano dall'essere definito sepolcrale, veniva utilizzato come appezzamento agricolo da tempo immemore, un particolare che si rivelerà essere di non poco conto nel prosieguo degli scavi. Numerosi amici della Pritti, il nipote Rabdomante e diverse personalità della zona, suggerirono alla signora di scavare i tumuli di terra vicino l'abitazione poiché ricolmi di splendenti tesori. I suggerimenti arrivarono in seguito alle voci che volevano presenze paranormali infestare l'area, con i tumuli che venivano indicati come luoghi in cui osservare i fantasmi dei guerrieri sepolti. La signora fece iniziare gli scavi a Basil Brown, un appassionato di archeologia locale che, dopo aver esplorato tre diversi tumuli, che però erano già stati violati, dopo circa un anno dall'inizio degli scavi giunse al tumulo che conteneva la nave di 27 metri di re Ridwald. Nel giro di pochissimo tempo fu evidente che la scoperta era di grande importanza e giunsero altri esperti di archeologia da Cambridge, che però si trovarono al centro di un alterco con il museo locale. Dopo differenti vicissitudini, il confronto con dei medium e altri episodi curiosi, nel giugno del 39 moltissimi dei manufatti di Sutton Hoo furono inviati a Londra, i quali però vennero subito rispediti al mittente per il caos generatosi in corrispondenza con l'inizio della Seconda Guerra Mondiale. La signora Pritti fu riconosciuta proprietaria degli oggetti e, con una generosità da nobile inglese, lei decise di donare tutto il sito e quanto vi fosse contenuto alla nazione. All'interno di numerosi tumuli si nascondevano tesori che, per la storia inglese e per gli esperti di archeologia, rappresentarono una scoperta a cardine per scoprire usi, costumi e vicende di quel periodo dell'Inghilterra post-romana. L'Alto Medioevo fu infatti un'epoca assai poco documentata della storia britannica e il ritrovamento di tombe intatte, colme di manufatti oggetti che descrivono e mostrano la vita dei personaggi di quel periodo, rappresentò un avvenimento epocale. Oltre ai resti della nave vennero trovate un'armatura di metallo ricoperta d'oro e gemme preziose, un casco cerimoniale, uno scudo con la spada, una lira, 37 monete d'oro e molti altri oggetti, anche piccoli, che ci consentono di comprendere come circa 1500 anni fa l'Inghilterra fosse già una nazione protagonista della storia e della politica europea. Oggi Satonua è stata ulteriormente scavata e studiata, scoprendo anche un secondo cimitero poco lontano dal primo, i cui tumuli erano stati distrutti durante le normali lavorazioni della terra agricola dei secoli precedenti. Il cimitero fu in uso sino a circa il IX secolo e ospitò, in netto contrasto con le sepolture nobiliari dei tumuli, diverse decine di condannati a morte per impiccagione e decapitazione. Ma a questo punto ci possiamo chiedere chi era Ridwald? Adesso, in tantissime trasmissioni, inizierebbero a parlarvi della sua storia in modo certo, come se noi sapessimo davvero di chi stiamo parlando. La realtà è che, in effetti, noi non conosciamo quasi nulla di chi fu e cosa fece veramente. Per essere ancora più precisi, non siamo certi se il sepolcro di Satonua sia davvero quello del re. La sua storia si intreccia con la diffusione del cristianesimo in Inghilterra e quindi la possiamo evincere da diverse cronache di religiosi dell'epoca. Intrecciando tutti i pochi dati che abbiamo a disposizione, fra cui è importante citare la «Istoria ecclesiastica gentis anglorum» di Beda il Venerabile, la prima fonte che parla di Ridwald, viene fuori una vicenda umana che, come è facile intuire, è tutto forché precisa. Affrontiamola lo stesso. Ridwald nasce nel VI secolo d.C., più o meno tra il 560 e il 580, non conosciamo neanche il decennio, in un contesto di instabilità politica dell'Inghilterra post-romana. Forse è discendente della casata dei Waffinga e sposò una donna che gli diede almeno due figli, Regen Heer ed Heerwald. Scusate la pronuncia, vi scrivo i nomi qua sotto. Forse ebbe un altro figlio, Sigebert, Sigeberto in italiano, e forse lo esiliò in Galla, ma, come è facile intuire, qui la storia si intreccia con la leggenda. In quel periodo arrivò in Inghilterra Agostino di Canterbury, mandato da Papa Gregorio I a evangelizzare la remota Albione, e furono in molti a convertirsi al cristianesimo, fra cui forse i figli di Ridwald. Anche Ridwald si convertì, ma la sua famiglia non seguì il suo esempio e nella sua casa non c'era solo un altare dedicato a Cristo, ma anche un altro che Beda descrive come per le vittime di demoni, quindi pagano. Bisogna specificare che in quel periodo la commistione di religioni era molto più normale di quanto non possa apparirci con gli occhi di oggi. Le vicende militari che rendono Ridwald un personaggio significativo anche dal punto di vista politico sono legate alla campagna che questi condusse contro Edelfrith, il sovrano della Northambria. Edelfrith aveva scacciato tale Edwin, il quale si era rifugiato da Ridwald. Nel 616 o nel 617 le truppe di Ridwald diedero battaglia a quelle di Edelfrith sulle rive del fiume Eidol e quest'ultimo fu ucciso. Il figlio di Edelfrith venne esiliato e la Northambria fu data in premio a Edwin e Ridwald aumentò a dismisura il proprio potere. Rimasto come unico sovrano già cristiano d'Inghilterra, egli viene definito da Beda Rex Anglorum, un titolo di cui fu accreditato anche grazie al debito di riconoscenza che Edwin aveva nei suoi confronti. Ridwald morì nel 624, hanno più, hanno meno. Per capire quanto le vicende di questi personaggi siano a noi sconosciuti, basta pensare che la sua morte viene registrata due volte da Ruggero di Wendover nel 599 e nel 624, anche se probabilmente il 599 è riferito alla morte di Taitila, il padre di Ridwald. Di lui, forse, ci rimane un sepolcro di inestimabile valore archeologico che è diventato anche il recentissimo oggetto di un film dal titolo La nave sepolta, The Dig, uscito da pochissimo e tratto dall'omonimo libro del 2007. Lo trovate disponibile su Netflix. Ciao a tutti e al prossimo video. Ciao a tutti.